namaste io sono haste brave ben ritornato in un altro episodio di papers please in mia compagnia come vedete siamo alla fine del diciottesimo giorno iniziamo pure il prossimo giorno il diciannovesimo con il regalo per nostro figlio che vuole dei pastelli costosi e li abbiamo presi import impone sanzioni commerciali immediato il giro di vite sulle importazioni d'arstotzka quindi dobbiamo stare molto attenti a questa cosa a quanto pare una cosa nuova abbiamo sergio che ci viene a dire qualcosa vediamo un po cosa ci dice impor rifiuta le merci importate su richiesta del ministero del commercio il ministero d'accoglienza reggirà questa violazione rifiutare tutti i viaggiatori provenienti da impor grazie per ieri mia mira non è come prima ok per fortuna se no ci poteva morire abbiamo i ricercati quindi dobbiamo rifiutare per forza tutti quelli da impor e però dobbiamo ce l'abbiamo scritto nelle regole perché dobbiamo farle sì esatto la motivazione è 61 di impor però dobbiamo dirlo ogni volta perché comunque dobbiamo mettere il motivo quindi non è che vediamo impor possiamo mettere dire posso mettere direttamente vai via dobbiamo farlo notare infatti tu sei da impor come si vede quindi devo fare così così e mandarti via in questa maniera facendo un po più di giri alcuni magari li possono anche arrestare l'entrata da impor è improbita per oggi quindi questa cosa qua vale per adesso abbiamo un'altra persona da impor quindi possiamo arrestarli diciamo alcuni magari perché hanno qualche qualche cosa di sbagliato però mandiamoli via che facciamo prima quindi oggi per guadagnare qualche soldo in più rispetto a ieri vediamo di velocizzare in qualche maniera così anche perché seguiamo la regola meglio di così tu sei qua di Arstotzka paradizna sei di Nilsk si Switzer Cameron va bene 49 kg 1,74 m eri piccolo furfante si bentornata in patria paradizna 1916 49 tutto il resto andava bene Switzer Cameron si ora torna a Nilsk e dico che stai bene qui bene il mio paesino Nilsk che mi vuole tanto bene è un posto di merda però ogni tanto tu sei un altro di impor e tra l'altro c'è la foto che non va bene ma essendo di impor facciamo prima far così magari potevo arrestarti però facciamo molto prima in questa maniera quindi toh toh e via avanti un altro siamo già a 5 per fortuna avanti un altro tu vieni dall'Obristan sono di passaggio due settimane va bene il nome corrisponde questo corrisponde 14 giorni va bene non sembra essere scaduto nulla a parte questo quindi dobbiamo fartelo notare e quindi mandarti via potevo venire solo ora non mi interessa la motivazione ce l'hai sei in ritardo avanti un altro cattivi cattivi proprio ok abbiamo un'altra persona da Republia dall'Esneradi sei in visita quanti mesi rimangono due mesi si sei stempiato si 105 kg si un metro e 84 più o meno questo va bene Thomas Vazdel si questo corrisponde Vazdel ok tutto il resto va bene quindi prego buon soggiorno spero di aver fatto giusto c'è qualcosa che mi impuzzava no a quanto pare avevo fatto bene oh guardate chi c'è sono di nuovo qui è tutto sistemato controlliamolo bene questa volta allora sedi scal questo anche se è un passaporto con un numero stranissimo va bene 60 kg 63 kg Giorgi mia moglie cuoca cattiva ma se io vengo a mangio se lei si arrabbia vediamo se c'hai qualcosa addosso per favore che cos'è che hai Giorgi ok ah cos'è questa cosa eh droga ho piccola attività qui tu fai passare e meglio e do qualcosa in cambio qualcosa cosa 10 crediti eh arresta aspetta Giorgi si capisco droga è cattiva non buona per ragazzini ma tu fa lavoro buono qui grazie tanto come vedete si è fatto arrestare e non è non ha non ha protestato troppo ma lo faremo passare prima o poi state tranquilli eh tu non hai passaporto scaduto pensavo di sì un attimo eh solo due giorni sei in transito sì eh 67 kg 176 ha i baffi tutto il resto sembra andare bene questo va bene sei di repubblica non mi interessa che quindi direi che puoi passare avanti un altro eh non mi interessa perché non sei di import praticamente se no devo fartelo notare eh altra persona che viene da Outergruze sei diplomatico Arstotzka Antegria 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 Jonathan Moalem va bene questo corrisponde quindi ti dico che puoi passare controlliamo che non sia uno di loro ma non lo è quindi secondo me puoi passare eh forse no ok va bene perfetto avanti un altro eh tu sei da San Marmero in migrazione questo corrisponde Anna Hanson va bene questo non è scaduto questo non è scaduto capelliri 63 kg 1 metro e 76 ok quindi puoi entrare pure quindi prego 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 avanti un altro cos'è che ho sbagliato? no non ho sbagliato perfetto buongiorno eh carte d'inità ecco qua perfetto eh Octovalis Janeway Kieran le date corrispondono 1 metro 88 per 105 kg quindi direi che puoi passare Gloria Dastotzka e avanti un altro 12 persone questo è il tredicesimo eh tu sei dalla colecchia vedere amici quindi sei in visita 3 mesi vedendo 90 giorni Isaac Hoffmanov questo corrisponde visita 3 mesi Yurko City Yurko City andava bene sì 79 1 metro 81 lo sei quindi direi che puoi passare a quanto pare i colecchiani stanno facendo qualcosa di buono ultimamente mi sa che ne sto rifiutando molti di meno buongiorno tu sei un'altra dalla colecchia scopo del gioco del visita 3 mesi rimango qui finché muoio eh no scherzavi vero ah ecco e allora passa pure non si prende in giro qualcuno così avanti un altro il prossimo vediamo se riusciamo a farne due addirittura tu sei da no da Repubbia no da Import 89 visita 3 mesi va bene questo corrisponde Nicola Nicola Rejdinski capelli lisci ce li hai corti ce li hai 89 kg 1 metro 83 va bene quindi passa pure e vediamo mi fa passare un'altra persona che probabilmente sarà l'ultima perché è l'ultima ora documenti colecchia Grestin Ovest transit attraverso paese due giorni sì 81 1 metro e 75 sì sei alto giusto quindi questo va bene tutto il resto dovrebbe andare bene quindi ti faccio pure passare quindi grazie entra pure un altro colecchiano che entra e vediamo se riusciamo a fare anche l'ultimo forza 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 non meno conforme eh magari cambiava di una lettera eh Grestin adesso proprio l'ultimo quindi possiamo prendersela con molta calma questo va bene le date corrispondono 45 kg 1 metro e 62 Perez Cristina Burnton questo è uno dei pochi che non mi ricordo purtroppo precisamente quindi controlliamolo da qua Burnton sì ok quindi direi che puoi entrare dovresti avere tutto in regola passaporto non posso controllare se sia vero il questo qui ah ah eh incongruenza nel senso che devo restarti tuo tono non mi piace un momento prego e restiamo l'ultimo che entra oggi il diciassettesimo la diciassettesima in realtà e mi ha arrestato un'altra persona ottimo 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 fine del giorno diciannove appartamento di classe sei ce la facciamo a prenderlo ah no purtroppo non posso a meno che non faccio così magari per un giorno possiamo farlo allora vediamo un attimo cosa che cambia intanto l'affitto sale da 30 a 40 ma il riscaldamento scende da 10 a 5 quindi in realtà sarebbe 5 in più quindi una persona in più il giorno dopo eh tenendo conto a parte il cibo che è sempre 20 quindi andremo a spendere 20 più 40 più 5 fa 65 eh che sono 65 diviso 5 fa 13 si sono 13 persone al giorno che dobbiamo fare minimo eh quindi direi che possiamo provare a fare così questa volta per avere l'appartamento di classe 6 so che non è bello non dare cibo riscaldamento per un giorno anzi possiamo fare magari un po' troppo sia uno che l'altro quindi facciamo così e così quindi il riscaldamento lo paghiamo e il cibo no e domani ricominciamo con tutto quanto quindi forza dormiamo e vediamo il giorno dopo sospese le sanzioni di import così presto cosa è successo ah ah c'è qualcosa che non funziona probabilmente era uno dei diplomatici da imp ah no non dei diplomatici abbiamo qualcuno che sta per arrivare quindi stiamo molto attenti perché c'è un'altra cosa ovvero dobbiamo togliere questo perché se no già restano o comunque è una cosa che non non è tanto bella eroe darstotka papà bellissimo disegno di un figlio perché perché gli ho fatto il regalo quindi lasciamolo qua e adesso parliamo un attimo è troppo presto per tornare qui puzza di questo presidio da nausea almeno tue prestazioni non sono terribili hai ricevuto 12 ammonimenti non peggiore ancora per sufficienza ho vecchia amica in arrivo a prova su entrata suo nome è Shae Piersovska non voglio sapere dei problemi da lei gloria e da Stotzka ok dobbiamo pensarci allora intanto come vedete abbiamo un altro riconoscimento molto simile a questo cambia un attimo la la dinamica comunque siamo sempre dei sufficienti quindi questo lo mettiamo qua e questo lo mettiamo qua facciamo così questo l'ho dovuto togliere perché se no mi diceva toglilo e uno dei finali e ci facciamo arrestare perché abbiamo uno di questi striscioni appesi quindi adesso non so dove metterlo quindi mettiamolo magari ce la facciamo metterlo qua sotto senza farlo uscire si questo è bellissimo come disegno quindi lo teniamo qua posso anche appenderlo se voglio anzi posso in realtà posso appendere tutto adesso anzi questo lo teniamo qua sotto e il disegno lo mettiamo qua in mezzo così va ancora questa parte disponibile import ha rinunciato alla sua ingiustizia no ingiusta politica è ora concessa l'entrata ai cittadini import è prevista una nuova visita delle autorità circostanziali di Gresti Nest nella giornata di Erna che è arrivato ok per il resto non è cambiato nulla abbiamo altri criminali da osservare quindi vediamo di metterlo in posizione mettiamoci in posizione anche con tutto il resto e siamo pronti per un'altra giornata di lavoro noioso lavoro no non è noioso a me piace tanto spero che piaccia anche a voi infatti se vi piace mettete pure un mi piace condividete la playlist magari addirittura della serie che è una cosa un po' più carina sei in visita mi manca il tuo identificativo visita 90 giorni l'avevi detto ah ecco adesso mi dai il identificativo 58 1.67 l'esneradi va bene il tutto il resto corrisponde valeri saladi ok quindi grazie 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 buon soggiorno non creare problemi avanti un altro ho un altro di nuovo dell'ezica hai visto come non ti sto ascoltando killer in arrivo da Antegria ha per bersaglio un importante agente Edzik Darstotzka va fermato non beccalè di Istom non dimenticarlo killer in arrivo non credo tu può darsi che mi stai dicendo delle cavolate cos'è sta cosa apri non toccare la polvere possiamo toccare la polvere chiudi no questa è effettivamente una cosa che possiamo fare per uccidere quella persona ma non lo faremo perché è un atto illegale noi siamo super mega legali sei in transito poche settimane no c'è scritto due giorni due giorni a quanto fare non è neanche una settimana capelli lunghi 42 kg tutto il resto non va bene quindi prego passa pure di solito quando si risolve un'incongruenza in realtà ce ne sono ce n'è una sola quindi fate passare tranquillamente dopo e esparmiamo un po' di tempo ok non credo tu sia un maschietto ma controlliamo è perché chiedi perché perché non ci assomigli tutto il resto va bene anche perché ti chiami Lina o Dick forse sì infatti c'è una donna quindi questo è un documento falso arresto avanti un altro quindi fuori e avanti il prossimo abbiamo perso un sacco di tempo tra l'altro sotto qua della Ezic chi abbiamo un altro giornalista scopo del viaggio seguo pista importante durata di soggiorno non posso dire oh e allora stranieri senza permesso di entrata non mi importa che tu sia di import non hai il diritto di entrare vai via ci avete provato un'altra volta questo pass non vale nulla fascista ricchione no scherzo motivo e rifiuto ah ho dimenticato di mettere il motivo maledizione ecco cos'è che ho sbagliato vabbè corista city lavoro 8 settimane sono 2 mesi sì questo va bene giacobi e Elena va bene capelli ondulati sì 58 kg sì 1,73 sì questo va bene questo va bene questo va bene questo va bene punto di domanda con questo penso di sì quindi facciamoti passare tieni 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 e tieni un sacco di roba non creare problemi e avanti un altro dai che non perdiamo tempo andava bene per futuro non ho fatto due errori di seguito un'altra volta San Marmero sì ti è scaduto passaporto non l'hai appena rinnovato è scaduto due settimane fa avanti un altro o forse hai portato quello sbagliato buongiorno Kaledistom questo è quello che dobbiamo uccidere eventualmente che è un lavoro durata 6 mesi tutto il resto va bene Kaledistom quindi ti faccio passare so che sei un killer però non posso farci niente purtroppo avanti un altro tu sei uno di questi bam beccato ti posso ti posso mandare via e dirti che sei un no vabbè arrestiamo e ti do anche il motivo dell'arresto sei uno dei ricercati di oggi quindi questo l'abbiamo fatto quindi spostiamo questo un attimo più su così siamo sicuri che ce ne sono ancora eventualmente due e vediamo tu su alia vescillo va bene le date corrispondono questo va bene 50 kg in pesi 60 quindi vediamo se hai qualcosa addosso che non mi va bene eventualmente il resto va bene quindi facciamo la prova e perquisizione ottimo che abbiamo un po' di hotkey per sveltire i processi e avanti un altro orange bonor si cos'è sta cosa alla faccia c'hai delle mazzette soldi non so che cosa sia arresto e avanti un altro siamo già a 11 mancano 4 ore vediamo se quanti riusciamo a farne in 4 ore ok avanti un altro glorian si visita un paio di settimane va bene questo va bene si non è scaduto questo va bene nada tozinovic va bene sovrappeso lo sei beh sovrappeso più o meno 1,85 non ci sei alta però c'è un paio di scarpe strane controlliamo le impronte e in caso ti arresto se no ti posso far passare queste corrispondono queste corrispondono quindi prego puoi entrare pure questo ti devo dare indietro ok via tutto e avanti un altro ho messo via le regole per sbaglio buongiorno outer gruse sei intasito due giorni caschetto 63 kg 1,81 questo corrisponde Joe Renko non Lourenko sei tu adesso vediamo ho più di un nome lo controlliamo subito se dici che hai più di un nome e non ce l'hai ti posso arrestare se funziona però sei tu si a quanto pare sei tu quindi questo lo possiamo approvare tieni tieni questo tieni questo e basta vedete che comincia ad essere molto affollata questa zona e avanti un altro il quattordicesimo wow Orvec Vonor distretto di Altan Vestrosga Nikita le date corrispondono 47 kg non ci sei 47 kg quindi probabilmente questo sarà l'ultimo perché ci metteremo un po' a fare questa cosa e il resto andava bene quindi approviamoti preventivamente vediamo se sei solo ingrassata la foto è al contrario ma è sempre lei ok hai delle granate addosso presa arrestata ce la facciamo col prossimo mi sa di no perché la giornata sta per finire e se non è veloce il prossimo il prossimo il prossimo si ce la facciamo a fare l'ultimo ottimo il sedicesimo che viene da Corista City e sei questa no femminuccia Arstotzka Federazione Unite questo va bene Nadia Petrova questo va bene dovrebbe andare tutto bene controlliamo giusto per perché abbiamo il tempo di farlo il no dobbiamo andare sotto la mappa Federazione Unite il simbolo si Nadia Petrova tutto il resto va bene qua abbiamo scritto Arstotzka dobbiamo sempre ricordarci di guardare anche quello quindi prego puoi entrare ok abbiamo finito un'altra giornata di lavoro giornata di lavoro che passiamo all'attivo come vedete fame male male fame fame tuo figlio ha bisogno di medicina aia e adesso comincia ad essere un problema intanto possiamo passare alla classe 8 e recuperare tutto quanto con i risparmi di 5 abbiamo guadagnato 70 l'affitto è 35 ok l'affitto è 30 ah si perché è salito l'affitto giusto il riscaldamento che è sceso le medicine del figlio sono 5 per fortuna cibo riscaldamento paghiamo tutto così tutti dovrebbero stare meglio e fine del giorno 20 alla fine facendo così abbiamo comunque 25 mesi da parte quindi vediamo di andare avanti c'è ancora credo l'appartamento di classe 5 e basta non credo ci sia un grado superiore a qualcosa del genere quindi stiamo attenti Arstotzka accoglie la dell'attrice de Antegria e a rischio i rapporti con i paesi confinanti quindi la famosa dell'attrice d'Antegria è arrivata fino da noi e l'abbiamo fatta passare anche quindi stiamo molto attenti perché stiamo incasinando un po' le regole del gioco 13 dicembre 1982 è stato istituito un programma speciale d'asilo politico i richiedenti che cercano asilo dovranno esibire un permesso d'asilo valido i richiedenti con tale permesso sono esenti dall'obbligo di esibire permesso di entità identificativo quindi vuol dire che sostituisce tutto tranne il passaporto quindi se vogliono passare hanno bisogno del passaporto e di questo secondo documento e basta bene abbiamo criminali anche oggi tra cui c'è Dracula è ritornato anche Croix un'altra volta e c'è uno che somiglia molto a Giorgi non vorrei che fosse uno di loro questo lo portiamo giù questo lo portiamo su questo lo riportiamo a destra perché la chiave magari serve potrebbe essere un giorno che finisce con un attentato perché sono un paio di giorni che non capita a quanto pare entriamo subito nella giornata del 13 dicembre avanti il prossimo buongiorno solo di visita ok 14 resta due settimane sì vista buona va bene 82 1,73 va bene questo scade domani però non è scaduto questo corrisponde Petros Klimnitz va bene direi che ti posso far passare tieni 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 e avanti un altro sempre più cose da guardare mamma mia ok il primo è andato bene forza avanti un altro Antegria Outergrus tu sei uno che chiede asilo politico ho bisogno di le tue impronte per forza tutto il resto corrisponde Andrea controlliamo che queste siano uguali a queste che siano uguali a queste questo non è scaduto perché c'è anche una data di scadenza 63 kg 1,65 questo corrisponde a questo Antegria direi che il permesso d'asilo va bene e grazie arrivederci spero che qui cose vanno meglio ci dice vadano però va bene come vi ho detto la traduzione è fatta apposta un po' sgrammaticata perché per sottolineare un po' la 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 difficoltà a imparare la lingua insomma Buffy 78 1,74 quindi questo va bene non è scaduto visita due mesi me l'hai detto Bernard Maliaz chi si e tutto il resto va bene non sei uno dei ricercati quindi passa pure non creare problemi e avanti un altro ok è andato bene per un attimo ho detto cos'è che ho sbagliato ok tu sei un lavoratore timbro rosso metti timbro rosso dico davvero in teoria hai tutto in regola 10 crediti per te se metti timbro rosso eh no però c'hai tu sei in regola quindi non voglio niente da te dannazione questo non voleva voleva essere rifiutato sono certo che rifiuti tutta gente perché ora no ora invento qualcosa bastava falsificare un documento però ti arrestavo in quel caso basta venire qua quando ti è scaduto il documento magari zucchi nido mi trasferisco qua si questo non corrisponde quindi ti posso arrestare avanti eh si il documento è valido anche anche vabbè mantieni un altro fuori ed ecco il prossimo siamo a 5 questo è il sesto siamo quasi a metà giornata no non siamo a metà giornata ti manca tipo il mondo passaporto c'è poco devo entrare oggi torno 3 giorni con documenti giusti è il tesoro di famiglia no non mi interessa vai via tieni il tuo orologio tieni tieni il tuo orologio tu tieni come garanzia no non mi interessa vai via tieni i soldi ti mancano tutti i documenti richiesti sì io ho detto io dico a te tieni non voglio le tue cose restituisci l'orologio to potevo anche arrestarlo e tenermi le cose però i 5 me li ha dati vabbè abbiamo preso delle mazzette involontariamente avanti un altro il passaporto passaporto richiesto ah ecco qua ok questo corrisponde Marakova Irina Tsukenido va bene Tsumkeido in realtà però è scaduto il passaporto non l'hai appena rinnovato non dire bugie avanti un altro ok vediamo chi abbiamo abbiamo una personcina che viene qua a lavorare assistenza sanitaria prima volta che ci arriva uh 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 gente che spara aiuto subito ok tre colpi però vabbè abbiamo beccato almeno sono fatto prendere un attimo dal panico per un attimo giornata interrotta per attacco terroristico tua sorella è stata arrestata sua figlia ha bisogno di una casa ah dobbiamo ospitare anche la nipote cosa che non possiamo fare allora intanto la famiglia sta bene se io faccio così e così la famiglia avrà un po' di fame però possiamo adottare la nipote la nipote che però ci costa altri 5 di cibo cominciamo ad avere veramente pochi soldi in questo playthrough però andiamo a rischiarcela così quindi facciamo vabbè stiamo senza cibo però abbiamo adottato una nuova persona quindi vediamo un po' cosa succede arrivata la dell'attrice d'antegria subito persa le sue tracce audace attacco al presidio di Grestin estremisti sempre più impotraprendenti Grestin nella calamità come vedete qua la dell'attrice d'antegria se n'è andata e direi che ci vediamo al prossimo episodio di questo let's play papers please io sono Ace the Brave ci vediamo a domani nel gioco e a dopodomani in realtà nella vita reale io sono Ace the Brave namaste be brave